Musica E' una passione che ho da quando ero piccolo, c'ero con mio papà, portato avanti da film, videogiochi, è sempre stato un sogno, adesso finalmente insieme lo stiamo realizzando, sono emozionato perché è veramente un sogno che realizzo e boh, basta, basta. Godermela io con mio papà ai 250, fin dove va. Basta.